Salve a tutti da Italianews, ecco le immagini scandalose e vergognose giurate in un centro di addestramento a massa marittima in Toscana. Questo vergognoso addestratore di cani di nome Claudio Mangini viene ripreso in un video mentre sferra un potente calcio su un fianco ad un cane lupo ciecoslovacco. Alle spalle proprio. I lupi tutti così, cioè i lupi, i ciecoslovacchi. I lupi, i lupi, se dicevo le vaifu, vedi come ti rovesciava. No, sta lì vicino a lui, sta lì vicino al tuo cane, che quando cerca lo shielding aiutalo, specialmente dopo le situazioni. No, no, ti basta solo il corpo, cioè tutte le volte che lui arriva e quello comincia a ringhiare tutti i fraccioni in mezzo e spari tanta pressione, deve essere una bomba atomica su di lui. Ti basta il corpo, ma non hai bisogno né di toccare né nulla, perché vale più quella che... che lui c'è rimasto di merda. Vedi che faccio, guarda. No, no, guarda. Male? 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 Ti fa male? Eh? Io so sempre dove toccarti, ricordatelo, eh. Terra! Questa è la pressione. Se ci andate leggeri, non è Disney la vita. Immagini che fanno veramente, veramente male. Andrebbe preso lui a calci. Vi saluto e vi invito a iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!